Giorno, qui sono le 5.20 del mattino e io sono già sveglia, non ho più sonno e ho intenzione di fare tante cose questa mattina, perciò credo che inizierò da adesso o comunque tra poco perché adesso sto cercando una canzone rumena che è bellissima però non riesco a farla, devo ritrovarla presto, non riesco a parlare, che così poi inizio subito a fare diciamo le mie cose. Questo sarà un vlog e oggi sarete con me, spero di tenervi compagnia, spero che vi piacerà e soprattutto spero che mi perdonerete per la mia lunga assenza che faccio ogni volta, però non riesco a stare molto dietro ai video, a youtube soprattutto, quindi io voglio provarci, questa volta sono determinata come le altre volte, però sono veramente determinata quindi spero di riuscire ad arrivare al mio traguardo e salite con me, ci vediamo dopo. Ho trovato il coraggio dopo un'ora e mezza di alzarmi dal letto e iniziare a darmi da fare, inizierò con il mettere a posto la cameretta perché davvero, non vi faccio vedere niente perché vi spaventereste davvero, fidatevi di me, c'è un casino bruttissimo, assurdo, pazzesco. Quindi niente, adesso mi metto a lavoro e noi ci vediamo dopo. Ho iniziato al mio trapposto, come potete vedere alle mie spalle c'è un casino veramente assurdo. Io avevo detto che non facevo vedere niente però, tanto. la mia cipollota sul letto l'ho già fatta, mi manca quello sotto, lo metterò a posto. Bagno, vi devo fare la doccia, vi devo fare la doccia. Sì, noi ci vediamo tra poco. È buio. Siamo arrivata a casa. Mamma saluta. Ciao. Siamo arrivata a casa. E niente, abbiamo messo a posto la spesa. E ora vado a mettermi il pigiama. Ringo saluta. Vabbè, mica la luce. Siamo qui che stiamo bevendo una tazza di tà, come si può vedere. Vabbè, e quindi... Non lo so, mi sta cadendo la borsa. No, io mi spedio. Sto, sto, vasino. Sì, ma mi stai riprendendo. Occhio a non riprendere dietro, che è una vergogna. Mi sto riprendendo da te. Sì, sono molto tai. Guardiamo il vasino dell'Elisa. Dammi qua. Allora no, non te li prendo. Anche lei sta bevendo il tè? Il tè. Vuoi salutare madre? Madre. Ah! Questa è la ripresa, però vi spieghiamo brevemente come funziona questo gioco. Praticamente è nomi, cose, città, animali e cibo. Vabbè, si può mettere quello che si vuole. Elisa, spiega. Allora, in pratica, la prima volta si fa solo nomi. Esce la lettera, come ad esempio qui da G, come si vede, G. Si mettono tutti i nomi possibili che si conoscono e bisogna farlo a tempo. Noi abbiamo preso già due minuti, così è più rallegrante la cosa. Sì, e ad ogni, praticamente ad ogni nome uguale abbiamo messo cinque. Cinque punti. E al nome che la persona non aveva scritto? Dieci. La stessa cosa vale per cose, città, eccetera, eccetera, così via. E si mette il numerino, aggiungiamo questo tag, sotto lo metteremo, il numerino. Per andare a fare i punti, ovviamente. I punti, dal numero che esce dai punti qua. Stai spiegando bene? Sì, sì, vabbè. Vabbè, praticamente funziona così, mettendo i punti. È come un nome cosa città animale normale, è solo che invece di fare nomi cosa città con la stessa lettera, si fa solo una colonna con i nomi con la stessa lettera. La stessa cosa con cose, la stessa cosa con città, eccetera, eccetera. Ovviamente ho fatto un po' schifo. Però vabbè, dai, come prima volta è stato bello. È divertente questo gioco, ve lo consigliamo tantissimo. E noi continuiamo.